Musica Sono nient'altro che borghesi, impiegati, studenti, sfaccendati. A sera indossano la loro buffa divisa, si ammucchiano davanti a un jukebox e ingurgitano Coca-Cola o birra direttamente dalle bottiglie. Musica Sputano sentenze ciniche quanto avventate e magari prendono a sberle le loro sventurate compagne per darsi il tono di duri. Musica Ma la scaltra industria parigina dello spettacolo ha trasformato anche i bluson noir in elementi di richiamo turistico. Gli apache della Rue de l'Appe, la Gaulue e il disossato del French Cancan, motivi ormai stanchi e ripetuti fino alla noia, ma pure genuinamente francesi, hanno mutato abito e aspetto. Una ragazza dagli occhi d'acciaio in un costume ispirato a una notissima pubblicità. Uomini vestiti di cuoio, ma che si fasciano i fianchi come fanciulle. Volti spenti. Senti cosa dice sua mamma di lei, ha ragione o no? No. Secondo lei è meglio come adesso o come al tempo di sua madre? No, per me è meglio come adesso. Ma sua madre dice che adesso sono esagerati, sono troppo spudorati, è vero? No, no. I ragazzi, i giovani della sua età si comportano male o bene? Il finimondo sulle strade. La morte per automobile miete oggi più vittime delle malattie infettive. Supera le cifre delle guerre più sanguinose. Il finimondo sulle strade. 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 Ecco, magari l'unico pregiudizio che ci è rimasto, l'unica piccola contraddizione, è che la ragazza in bichini ci piace. La corteggiamo, la sposiamo senza dire niente. Poi al momento che è diventata nostra moglie, ma che sei madda? Vai in spiaggia in bichini, poi ti guardano tutti. Copriti, no? Mettiti un grembiule. Ecco, o vedi come stai meglio? A parte di un'altra. A parte di un'altra. L'orrore, il terrore, l'angoscia dominano un mondo che non ha più ideali. L'orlo dell'abisso spirituale si spalanca dinanzi ai figli della bomba atomica e insorgono i mali del secolo, che aggrediscono soprattutto le più deboli. Il terrore, il terrore, il terrore. Il terrore, il terrore, il terrore. Il terrore, il terrore. Il terrore, il terrore, il terrore. Il terrore, il terrore, il terrore. 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 Il terrore, il terrore, il terrore. Chiefs of wolfhond and mascots Exotic hot dogs To get the desired result The dog must be young, too Another legend of the island Is that if a dog wants to stay young He must eat a few American tourists Hawaii Hawaii used to be an independent kingdom now it is one of the United States of America so it seems particularly fitting for this young Hawaiian to sing her new national anthem Can you see by the dawn early night what so proudly we had at the twilight lost in the middle of the crosswind and bright stars in the southern house like era la legge del satti oggi questo rito è proibito ma qualche volta la donna si chiude in casa e in segreto si cosparge di benzina e si appicca il fuoco quello che le fiamme distruggono lentamente è soltanto un vecchio vestito di carne forse l'anima che lo ha abbandonato è nel fumo che si alza al cielo e si allarga un po' e si allarga un po' this one takes place in the courtyard of an old fort three men and three women are on sail all Africans they appear resigned to their fate dovun le doth l'ушка la l' Bros del Wars l' l' Grazie a tutti. Grazie a tutti. The passion and violence of the caged women dancing for the love of another's man. This is a story you must not miss. If you were to fully understand the drives and sex desires of women of today. Forbidden Beauties is the shocking story of today's women. This is a story you must not miss. 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 Grazie a tutti.